adesso andiamo a fare un altro pezzo di filmino giusto perché anche il signor Lecce si è emozionato si è ricordato di quando veniva qua con un vespino rosso insieme a un suo amico di cui non facciamo nome venivano qua a girare come dei pazzi a notte fonda e non mi lasciavano dormire con un fiasco di vino dietro qui c'era la vecchia pizzeria dove abbiamo mangiato tante sere e qui c'è una famiglia che ancora abita come potete vedere qui nel forgo più antico di cavallerizzo scendiamo qui è la parte più antica di cavallerizzo